in questo minuto e mezzo iniziale ancora Stanford a esplorare la penetrazione ecco arrivano scarico per Tyreek e da Moretti, bella palla interna poi extra pass di lusso per tra le linee Meieris con grande senso tattico sbaglia poi il rimbalzo, rimbalzone per Tyreek Jones Zanotti nel mezzo angolo, dentro per Jones classico movimento, Tyreek Jones per Moretti arriva la palla di ritorno e Jones galleggia la Carlos Delfino lascia lì Aradori in partenza poi labora ancora tornare fuori a innescare Jones di Latona contro Grossella in qualche modo cambia lato sullo smarcamento poi a spazio per Sevilla dentro Jones, va su di Flue Moretti va da Tyreek Jones che si fa largo di fisica la palla che va Grossella la stoppata di Tyreek Jones che arriva blocco di Tyreek Jones per Moretti gran palla pesca Delfino altro taglio per Jones Delfino tucco questo taglio neuana Grazie a tutti.